Onigashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Siamo a settembre, è tempo di ricominciare ad allenarsi, è tempo di ripresentarsi ai corsi, quindi come primo video diciamo per aprire la stagione, la nostra stagione sportiva di allenamenti, voglio fare un video un po' diverso anche di ringraziamenti. Dopo la sigla! Bene ragazzi, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo Martuscelli, sono l'insegnante di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video. Il canale non è monetizzato, quindi non dovrete pagare niente, non dovete fare nessun abbonamento, il canale è completamente 100% gratuito, fatto da un appassionato di arti marziali per tutti voi appassionati di arti marziali. Se volete sostenere questo mio progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, beh potrete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e condividendo i miei video. Naturalmente ragazzi commentate perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Volevo iniziare questa stagione sportiva con un po' di ringraziamenti, naturalmente voglio ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale e soprattutto appunto tutte le persone che seguono i miei video. Come molti di voi sanno il canale è nato praticamente per caso durante il lockdown dell'ottobre sportivo 2021 dove tutte le strutture sportive sono state costrette a restare chiuse. Ho deciso così in quel momento di realizzare qualche video per i ragazzi della mia scuola ed il progetto doveva finire là una volta che gli allenamenti sarebbero ripartiti. Era un modo per intrattenere e per continuare a comunicare con le persone che si allenano insieme a me. Ma alla fine il canale non è stato chiuso perché alcuni di voi hanno iniziato a iscriversi al canale, hanno iniziato a seguire i video, hanno iniziato a commentare. E così il mio progetto di passare qualche minuto in compagnia delle persone che si allenano nella mia scuola si è ampliato anche ad altre persone che hanno iniziato a commentare, abbiamo fatto amicizia e quindi da lì l'idea di proseguire nel canale. Ma questo non è un canale come tutti gli altri, ne sono consapevole perché comunque al centro ci sono tutti gli argomenti che riguardano le arti marziali. Naturalmente ci sono gli argomenti che riguardano un po' tutte le arti marziali giapponesi e alcune cose che ruotano intorno a questo mondo sempre naturalmente viste dalla mia modesta esperienza che posso avere. Quindi tutti gli argomenti da me riportati naturalmente sono un mio punto di vista, sono frutto delle mie esperienze che condivido. Quindi naturalmente posso capire benissimo che non sempre potete essere d'accordo con me ma questo è una cosa che è naturale ed è giusto che sia così. Uno degli ultimi video che ho fatto è stato un video su Bruce Lee. Avevo da tempo in mente di parlare di questo personaggio ma come sapete, come mi conoscete bene, non volevo fare un video a caso. Volevo comunque parlare di questo personaggio perché? Perché fin da piccolo sono stato sempre appassionato dalla figura di Bruce Lee, dai suoi film ed è proprio grazie a lui se io ho voluto intraprendere la strada delle arti marziali. Quindi mi sembrava doveroso a un certo punto trascinare questa mia passione all'interno dei miei video. Ho fatto questo video e ho scelto di parlare in modo diciamo un po' più marziale della sfida tra Bruce Lee e Wong Jackman. Con mia grande sorpresa questo video ha raggiunto le visualizzazioni più alte sul mio canale arrivando quasi a 20.000 visualizzazioni. di questo devo ringraziare anche il grandissimo Lorenzo De Luca. Se non lo conoscete fate un giro sul suo canale. Lorenzo De Luca, un grandissimo sceneggiatore e scrittore italiano e naturalmente un grandissimo conoscitore del cinema di arti marziali asiatico. Ha scritto anche dei libri che potete recuperare ed è praticamente una delle persone più preparate non solo in Italia ma anche all'estero su questo argomento qua. È arrivato sul mio canale, ha visionato il mio filmato su Bruce Lee e sono arrivati con mia grande soddisfazione, con mio grande piacere e con mio grande onore anche i suoi complimenti. Nelle ultime settimane inoltre sono arrivati sul canale numerosi nuovi iscritti che hanno iniziato fin da subito a commentare, a recuperare anche i video passati e a commentare anche sotto di essi tenendo vivo comunque il canale. Quindi per questa cosa qui io devo ringraziare tutti voi. Anche se il canale ha dei numeri piccoli, naturalmente dei piccoli numeri in confronto ad altri canali che parlano degli stessi argomenti di arti marziali. Ma nonostante questo ho scelto comunque di non monetizzare il canale. Questo perché nel mio pensiero c'era quello di fare un canale come se anche se virtualmente si entrasse un po' in un dojo per qualche minuto parlando così fra noi. E quindi come nella realtà entrando in un dojo certamente non mi metterei a parlare dell'ultima offerta o delle ultime pubblicità. Cosa che invece monetizzando il canale sarebbe accaduta con le pubblicità che avrebbero interrotto i miei video marziali. E questa è una cosa che assolutamente non deve accadere. Inoltre anche se mi hanno proposto di fare alcune pubblicità all'interno dei miei video ho comunque deciso di non farlo e se nel mio video parlo di alcune cose consigliando o meno di comprare o di non comprare qualcosa è solo perché l'ho fatto di mia esperienza. Voglio anche condividere con voi una cosa molto importante ovvero come nasce un mio video. Beh a parte il video che ho fatto appunto un po' più articolato su l'episodio di Bruce Lee per cui ho dovuto prendere degli appunti per mettere in sequenza le cose come volevo che fossero raccontate. Beh per tutti gli altri miei video i miei appunti sono bianchi. Non mi preparo a niente. Quando io devo fare un video scelgo l'argomento del quale voglio parlare, preparo la videocamera, premo REC e inizio a parlare perché sono cose che normalmente durante le mie lezioni, durante i miei stage, sono cose che normalmente parlo. Quindi quando parlo delle tecniche, quando parlo dei samurai, quando parlo dei cenni storici, sono tutte cose che ho studiato e che non faccio un copione di queste cose per poi riportarle a voi. Diciamo anche che a volte il racconto o la storia o le spiegazioni che sto illustrando. Magari sono un po' più così a livello confidenziale e non sono riportate elencate così come potrebbe fare un copione, ma il mio divertimento è proprio questo. Mettermi davanti la videocamera come quando mi metto davanti agli studenti e parlare delle cose che interessano a tutti. Beh ragazzi approfitto di questo video per fare come ho detto alcuni ringraziamenti e in particolare voglio ringraziare qualche persona che mi segue da tempo sul canale. Voglio anche ringraziare tutti i maestri che mi scrivono delle mail dove mi danno il loro supporto per portare avanti il canale e sappiate che per me è un grandissimo onore ricevere l'approvazione di voi maestri. Non importa di quale arte marziale facciate parte perché comunque come dico sempre io la verità nelle arti marziali non ce l'ha nessuno ragazzi. La verità nelle arti marziali è spezzettata, frantumata in tantissimi piccoli pezzi e ogni piccolo pezzo è sparso in giro. Quindi parlare con le persone, praticare, viaggiare e cercare di aprirsi a tutti gli argomenti di tutte le arti marziali non vi farà altro che recuperare qualche piccolo frammento e ne saprete sempre qualcosa di più. Partendo con i ringraziamenti naturalmente voglio ringraziare il maestro Michele Rubino che fin dai primi video mi segue. Ci siamo anche incontrati perché una volta è passato qui dalla Toscana ed è venuto a fare un allenamento qui proprio nella mia scuola. Quindi ci siamo conosciuti, mi ha portato anche un bellissimo regalo che mi ha lasciato praticamente a bocca aperta e quindi ringrazio Michele Rubino, ringrazio anche l'appassionato Luca Bonardi che anche lui mi segue da tantissimo tempo. Ringrazio la simpaticissima Sol Yan e la bottega del Samurai Ex Silver Dojo che mi seguono da Salerno. Anche con voi ragazzi ci siamo promessi un giorno di poterci incontrare e vedrete che lo faremo. Saluto e ringrazio Little Melvin che mi segue dalla Svizzera. E poi Michele Di Mauro, Cancio Karate, Costantino Panai, Claudio De, Super Shinobi, Igor Baudino, Verdiana Ricci, Jason Wurz 1946, Alessandro Di Lollo, Lorenzo Galassi. Insomma ragazzi siete veramente tanti. Vorrei veramente menzionarvi tutti ma naturalmente per questione di tempo e di spazio non posso farlo. Quindi devo centomila volte ringraziare tutti voi. Per tutti quelli che mi chiedono lezioni private e mi mandano questi messaggi ragazzi lo leggete nella descrizione del canale. Non faccio lezioni private, non faccio lezioni online a pagamento, non vendo le arti marziali in questo modo qua io. Se invece tra i vostri progetti c'è quello magari di praticare qualcosa insieme potete mettervi in contatto con me tramite la mail che trovate nella descrizione del canale e potete passare qui dalla mia scuola per qualche giorno come volete voi come ha fatto già anche il maestro Michele Rubino e sarete sicuramente miei ospiti. Potrete allenarvi qui con noi senza naturalmente pagare niente, non vi costerà assolutamente niente. Quindi ragazzi non mi iscrivete chiedendomi esercizi, chiedendomi di fare lezioni online perché non faccio questo tipo di marketing sulle arti marziali. Per tutti quelli che regolarmente mi chiedono dove io insegni, dove sia la mia scuola. La mia scuola è nella provincia di Pistoia e comunque attraverso la descrizione del canale trovate anche un collegamento internet sul sito della scuola dove poi potrete prendere contatti. C'è anche il mio numero di telefono se qualcuno vuole recuperarlo per chiamarmi. Colgo l'occasione per ringraziare anche Patrizio del Campo Karate, il maestro Patrizio che mi ha mandato un bellissimo messaggio e ti ho risposto e ti ho mandato anche il mio numero di telefono. Poi voglio rispondere anche a tutti quelli che mi scrivono, che hanno delle scuole, alcuni maestri che mi hanno scritto per organizzare uno stage, per organizzare qualche lezione sia di karate, di kobudo e così via e mi chiedono appunto quanto costi organizzare questa cosa. Beh ragazzi voglio rispondere direttamente da qui, non c'è un listino prezzi assolutamente in linea di massima, se volete organizzare una giornata di allenamento insieme dove praticare e fare qualcosa insieme sarò ben lieto di venire e non vi costerà assolutamente niente. Confido solo nella buona ospitalità marziale che ogni scuola deve avere. Altra cosa importante sul canale, devo dire la verità, molto molto pochi ma sono arrivate anche alcune persone che hanno commentato non in modo costruttivo ma si sono lasciati andare in qualche messaggio a qualche offenza, soprattutto se sono presentati veramente male. Voglio ricordare a queste persone che i commenti nel mio canale naturalmente sono pubblici, sono aperti a tutti questi, ma dovete ricordare una cosa importante, non sono uno youtuber, sono un maestro di arti marziali e ho una mia scuola. Questo è diciamo un po' una piccola fetta di un dojo virtuale che io porto sul web, così come se arrivate nella scuola di arti marziali vi dovete presentare e comportare in modo giusto dovete farlo anche qui sul web, altrimenti ragazzi non ci siamo. Quindi in linea di massima, in questo canale ci sono tantissime persone che praticano o hanno praticato arte marziale, il primo passo è far vedere che la vostra arte marziale vi ha insegnato il rispetto e l'educazione, che è la prima cosa che i maestri dovrebbero insegnare ai loro allievi. Quindi arrivare sul canale, commentare offendendo sia me o le altre persone che hanno risposto ai commenti senza fornire diciamo invece un commento costruttivo non farà altro che isolarvi direttamente dal canale. Non vanno a nessuno, non mi metto a cancellare post, non me ne frega niente, semplicemente rimarrete lì a parlare da soli, potrete scrivere tutti i messaggi che volete. Beh ragazzi durante il video ho mandato qui accanto tutti gli altri persone che chiaramente per ragioni di tempo e di spazio non posso mettermi a nominare. Ho molto piacere che appreziate i miei video per come sono fatti, soprattutto nella parte iniziale del canale non avevo praticamente nessun tipo di attrezzatura, l'audio si sentiva malissimo, poi mi si è rotta la videocamera, ho dovuto riprendere per un po' di tempo col telefonino. Insomma poi l'anno scorso per il mio compleanno i miei allievi mi hanno fatto un grandissimo regalo regalandomi tutto il kit per fare audio e video in modo decenti. Quindi un grazie incredibile va anche a tutti i fratelli, ragazzi e ragazze marziali che ogni sera si allenano con me. Bene ragazzi, prima di concludere voglio consigliarvi di recuperare per inizio stagione un video che ho fatto per la ripresa dei corsi l'anno scorso, ma che naturalmente è sempre valido per la ripresa. Vi lascio il link qui sotto in descrizione se non l'avete visto, recuperatelo e andatelo a guardare. Bene ragazzi, il video finisce qua. Un piccolo video di ringraziamento per tutti voi mi sembrava doveroso. Continuerò a parlare del kobudo, dei samurai, del karate, delle arti marziali e in generale nel modo più serio e degno che meritano. Bene ragazzi, il video finisce qui centomila volte grazie a voi per aver portato il canale fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video. Dom'a rigato!